Con Carlo Conti, allora Carlo, hai definito questa lista dei big un mosaico dal sapore pop, allora chi staranno? Guarda, ho il mio foglietto che da oggi pomeriggio è con me, Deborah Iurato e Giovanni Caccamo con Via da qui, Noemi con La borsa di una donna, Alessio Bernabei con Noi siamo infinito, Enrico Ruggeri con Il primo amore non si scorda mai, Arisa con Guardando il cielo, Rocco Ant con Wake up, Idyr Jack con Mezzo respiro, Gli Stadio con Un giorno mi dirai, Lorenzo Fragola con Infinite volte, Annalisa con Il diluvio universale, Irene Fornaciari con Blu, Neffa con Sogni e Nostalgia, Zero assoluto di me e di te, Dolce Nera con Oroma e più, Clementino con Quando sono lontano, Patti Pravo con Cieli immensi, Valerio Scano finalmente piove, Blu Vertigo, Morgan semplicemente, Francesca Michelin nessun grado di separazione e Elio e le storie tese con Vincere l'odio. Benissimo, velocissimo, i tempi di atelioli giornali fantastici, vediamo allora questi big con Vincenzo Mollica. Un cast bello e sorprendente che rappresenta molte facce importanti della nostra musica leggera e onore al merito a tutti i cantanti che hanno deciso di affrontare il Festival di Sanremo in gara, a partire da artisti che sono storia come Patti Pravo, Enrico Ruggeri, Gli Stadio, Elio e le storie tese, Morgan e il Blu Vertigo, Neffa, oppure giovani talenti talentuosi come i D.R. Jack, Alessio Bernabèi, Francesca Michelin, Lorenzo Fragola e la coppia Deborah Iurato-Giovanni Caccamo. E ancora nomi consolidati che potrebbero non fare il Festival e invece lo affrontano come Noemi, Arisa, Zero Assoluto, Valerio Scano, Annalisa, Irene Fornaciari, Dolce Nera ed infine due centravanti in rap con buona confidenza con la melodia, Clementino e Rocco Hunt. In attesa di sentire le canzoni il mister Carlo Conti ha messo in piedi una squadra di tutto rispetto che godrà di un grande privilegio. L'Italia nelle serate del Festival di Sanremo, come da tradizione, si riunirà come in una grande famiglia in nome della musica e di questi tempi non è poco. Allora, in nome della musica, qual è la qualità delle canzoni quest'anno? Beh, è una bella qualità, ho detto un mosaico con tanti sapori diversi, pop, molto pop. È una bella qualità, sono soddisfatto e speriamo anche quest'anno di regalare tante buone canzoni. Vari generi. Tanti, tanti sapori diversi, ritmi diversi, come deve essere il Festival di Sanremo. Speriamo di farcela. Sì, non ci sono. Cioè di aver centrato. Chi ti accompagnerà sul palco? Qualche piccola... Ah, ma certo, sono venuto apposta per dirvi i nomi che sono. Ecco. Qualche caratteristica, niente. No, cercherò di stupire anche quest'anno. Lo scorso anno le due grandi protagoniste che avevano vinto le ultime edizioni del Festival di Sanremo e una grande attrice come Rossio. Quest'anno cerchiamo di lavorare in un altro senso. Ho sempre detto che ho diviso il lavoro in tante fasi. Da domani pensiamo al contorno importantissimo a questi cantanti straordinari. In bocca al lupo. Grazie. Grazie.